I primi due anni di governo Meloni hanno visto la Sicilia e Palermo al centro dell'agenda politica. In tanti provvedimenti ci sono stati dei segnali concreti di attenzione, importanti trasferimenti di risorse, sostegni alla nostra regione su temi vitali, dall'aticità ai pernovalorizzatori e al comune di Palermo, non solo per mettere in ordine i conti ma anche per aumentare gli organici dell'amministrazione, da ultimo con la possibilità di assumere 100 vigili urbani. Tutti segnali concreti che dimostrano come la sinergia tra il governo della città, il governo della regione e il governo della nazione portino buoni frutti per il territorio.